Il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di Extra Star è di 9.2 su 10. Ha per il momento il miglior rapporto qualità prezzo. Viene molto apprezzato per queste caratteristiche. Luminosità. Efficienza energetica. Ottimo rapporto qualità prezzo. Longevità. Puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video. La valutazione finale assegnata a questo articolo di ILC è di 9.2 voti su un totale di 10. Risulta al momento essere il più desiderato. I suoi punti di forza sono. Ottimo rapporto qualità prezzo. Controllo remoto. Luminosità. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Questo articolo di Bitacca ha riscontrato una valutazione di 9 su 10 totali. Risulta essere la nostra scelta migliore. Si tratta comunque di un articolo alquanto funzionale, capace di distinguersi dalla concorrenza. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. La valutazione di questo prodotto di Amazon Basics è di 9 voti su 10. Risulta essere il più votato per questa categoria con 14.427 valutazioni. Le sue qualità sono. Leggero. Efficienza energetica. Ottimo rapporto qualità prezzo. Luminosità. Durabilità. Longevità. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. Extra Star. Con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 9 su 10. Risulta al momento essere il più venduto online. I punti di forza sono. Luminosità. Efficienza energetica. Longevità. Ottimo rapporto qualità prezzo. Rilevamento del movimento. Stile. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. Il voto finale aggiudicato da questo articolo di Philips è di 9.2 voti su 10. In questa selezione risulta essere il migliore. Le sue peculiarità sono. Efficienza energetica. Ottimo rapporto qualità prezzo. Durabilità. Luminosità. Stile. Longevità. Se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video.